Eccoci, buongiorno. La situazione di questa mattina, come spesso succede, è successo nei giorni scorsi, qualche nuvola, vedete ce n'è qualcuna, ma proprio direi insignificante al sud, qualcuna in più al nord, ma anche quelle grosse zone nuvolose, quei grossi corpi nuvolosi, come si definiscono, che prendevano l'Europa settentrionale, si sono dissolti, quindi anche lì arriva un po' l'effetto dell'alta pressione, l'unica zona un po' attiva è questa. Allora, previsioni per la giornata di oggi. Nel pomeriggio qualche fenomeno sulle zone alpine? Sì, qualcuno compare, è l'inizio di una situazione che potrebbe leggermente cambiare un po' lo scenario, non molto, non vi aspettate molto, però qualche fenomeno sulle Alpi centro-occidentali oggi, a differenza di ieri, ci potrebbe essere. Sul resto, assolutamente nulla, abbastanza curioso, non è la prima volta che lo troviamo, questa piccolissima zona sul lago di Garda, vicino al lago di Garda, quindi dove si incontrano le tre regioni. Allora, domani questa instabilità del pomeriggio sulle zone alpine si presenta in maniera un po' più estesa, perché prende sia la parte occidentale, sia quella centrale, in parte quella orientale. Molti fenomeni restano al di là del confine alpino, ma qualcuno, specie sul Trentino, di nuovo scende un poco anche verso la pianura. Sulle altre zone di pianura del nord, al centro e al sud, assolutamente nulla. Arriviamo alla giornata di giovedì. Qui c'è un cambio di passo che riguarda almeno il nord, perché sul nord-ovest fenomeni isolatissimi sul Piemonte, sull'Alta Lombardia, però guardate Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, si arriva in pianura, quindi non parliamo di montagne, di zone alpine. Un po' meno il Friuli-Venezia-Giulia, con fenomeni estesi, in qualche caso le macchie, come le vedete, non sono piccolissime e molto intensi, quindi è maltempo forte, che probabilmente non riguarda solo le ore del pomeriggio, quindi potrebbe essere l'inizio di un certo cambiamento. Appena si passa l'Appennino settentrionale, centro e sud rimangono assolutamente in situazione stabile. Vediamo i venti previsti per la giornata di oggi, sono sempre settentrionali, ogni giorno, lo ripeto, è paradossale, fa molto caldo, uno pensa a venti da sud, sono venti da nord, non vengono dal polo nord purtroppo e si sente, comunque sono venti settentrionali, quindi il flusso non è comunque molto caldo perché è africano, l'aria si scalda qui perché c'è l'alta pressione. Il nord-ovest o il nord, soprattutto sull'Adriatico, sullo Ionio, con qualche rinforzo sulle altre zone, appena appena qualche zona moderata. Vediamo le massime previste per la giornata di oggi, ancora una volta direi che come zone, quelle più calde, sono le stesse di ieri, non prende il versante Adriatico, vedete che spesso la Puglia aveva avuto valori altissimi, qui invece siamo isole maggiori, parte del sud tirrenico, centro tirreno, alto tirreno, queste sono le zone più calde. Teoricamente, valutando i colori che sono previsti, si possono, come in qualche caso è successo ieri, toccare i 38 gradi, forse superarli, ma la strada poi, ripeto, si dovrebbe un po' fermare. Infatti, la previsione per la variazione delle temperature massime per domani, vede proprio sui versanti tirrenici qualche debolissimo cenno di diminuzione, il che significa che potrebbero comunque, come minimo, restare stazionari. Salgono invece un poco di più sulle zone settentrionali. Ho fatto un po' tardi, ma vi faccio vedere solo due foto, perché sono importanti, sono di stretta attualità, la prima ce la manda Maximilian da Formia e vedete l'attività, cioè l'AIB che sono volontari, oltre ai Vigili del Fuoco, per la situazione di incendi, ovviamente gravissima, e l'altra che ci manda Francesca da Montelibretti, in provincia di Rieti, ma è subito a nord di Roma, dice che ieri sembravano che ci fossero tutte queste nuvole basse in lontananza, invece il fumo di incendi che ci sono stati intorno a Roma ieri, in maniera anche abbastanza estesa. E questa è la piaga classica che abbiamo con la situazione di siccità, di temperature elevate, spesso e volentieri di incendi dolosi e gli effetti sono comunque devastanti.